Mi dai 5 euro? Te li do se rispondi in un devinello Va bene Se in una mano ho 3 euro con 2 monete Li dai a me? No, allora Se in una mano ho 3 euro con 2 monete Ma una di queste non è da 2 euro Quali monete ho? Non lo so Va bene, te li do lo stesso 5 euro Grazie Ma sei pazzo? Dai 5 euro a un barbone Qual è il problema? Scusa? Non lo sai che si compra la trona? Una moneta non è 2 euro L'altra si E' giusto E' giusto Scusa, però hai indovinato lui Ma che ci fai con questi 5 euro? Tuve la combinato che ho 5 euro?